Grazie. Prego. Ma i Nitti hanno capito chi sei? Tranquillo. La donazione è anonima. Non sospettano niente. Bene. E Zanni l'ha ripresa la macchina? No, non si è mosso. È la tua collega da quest'ora? Mi sta addosso. Riesco a gestirla per ora. Luca, te la posso fare una domanda? Vai. Perché lo fai? Cioè, voglio dire... Perché mi stai aiutando? E, è l'autostia. È un altro momento. È un altro momento? E... Perché l'ha danca?